Sono riprese stamane sul Corno d'Aquilio e le ricerche dell'escursionista hanno rientrato nella serata di mercoledì da un giro ad anello sui Monti Lessini in provincia di Verona. Oggi le squadre di soccorso alpino si concentreranno nei tratti più esposti e distanti dai sentieri, seguendo tutte le possibili tracce di animali suggerite anche da pastori e cacciatori, in particolare la porzione più impervia ad ovest della Croce di Vetta e i punti più rischiosi dei quali sul filo di cresta si può scivolare. Sarà percorso sia in discesa che in salite il vecchio sentiero delle pecore, dove un tratto particolarmente pendente trascina tra le rocce verso un canale sottostante. Al momento i soccorritori attendono un miglioramento del meteo, di visibilità e soprattutto il calo delle raffiche di vento, cosicché gli elicotteri di Verona Emergenza della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco possano dare un contributo nel controllo dei versanti dall'alto.